Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, quartiere solito Corvisea, via Atenisio, nei pressi del supermercato Doc, a poche centinaia di metri, il complesso della Cola Siderta. Le immagini parlano in maniera chiara ed inequivocabile. Guardate il manto stradale come si trova. Sembra che sia stato oggetto, vittima di un bombardamento. Vi stiamo facendo vedere ora le immagini, allora quando non piove. E già si vede lo scempio. Sembra quasi un mosaico, con i vari tasselli costituiti dalle varie pietre e poi ci sono le buche, ossia i tasselli mancanti. Ora, qui bisogna accertare per benino la proprietà dell'aria. La verificheremo. Però, quando anche fosse privata, ripeto, quando anche fosse privata, anche qui l'amministrazione comunale deve intervenire. Perché stiamo parlando non di aree private chiuse, ma aree di transito pubblico. Per cui, nel momento in cui una persona, un cittadino comune, va a fare la spesa, va a trovare un amico, una persona, un parente al complesso della Cola Siderta, si imbatte in questo scempio. Oltretutto stiamo parlando di un'area che è vicina all'attraversamento pedonale. Stiamo parlando di un'area trafficatissima perché la gente, volente o nolente, per andare a fare la spesa deve passare da qui. E allora, consideriamo le due ipotesi. Se è proprietà comunale, l'amministrazione comunale deve intervenire senza se e senza ma. Se però l'area non è comunale, ma è privata, ordinanza in danno da parte dell'amministrazione comunale, realizza l'opera a propria spesa e poi si rivale sui legittimi proprietari. Perché, ripeto, stiamo parlando di una situazione incredibile. Questa è l'immagine quando non piove. Abbiamo anche registrato, filmato i momenti in cui piove. E anche qui le immagini parlano da sole perché sembra Venezia con l'acqua alta, con le macchine che letteralmente attraversano questo lago. Immaginate cosa succede quando si va a fare la spesa, quando le macchine scorazzano nell'acqua, la gente riceve gli schizzi d'acqua e questo è niente, ma anche per attraversare forse le persone dovrebbero usare gli stivali. Per farvi capire la situazione, una situazione che si è incancrenita, non è una scoperta quella che vi sto mostrando oggi, è una situazione che forse risale almeno da un decennio. Ed è ovvio che sia così perché per far sì che il manto stradale subisse queste devastazioni, queste condizioni, evidentemente gli anni, il passare, il trascorrere del tempo ha usurato ancora di più l'area. Io dico non ci troviamo in un'estrema periferia, ci troviamo in una zona centrale e soprattutto dobbiamo, l'amministrazione deve fare gli interventi laddove c'è appunto un maggior utilizzo di quell'area da parte dei cittadini. Se tutti passano da qui, quasi tutti, per un motivo o per l'altro, tua amministrazione deve intervenire e poi scusate, quanto costa intervenire? Qui non è che dobbiamo fare chissà che cosa, non vi sto chiedendo di costruire la fontana di Trevi, ma viva Dio, almeno rappeziamo, diamo una parvenza di vivibilità. Ma l'optimum sarebbe rifare questo tratto e si potrebbe, perché poi stiamo parlando di un'area molto ma molto limitata, ma quantomeno rappeziamo nell'una e nell'altra delle cose. Nessuno si ribella, il cittadino ormai si è assuefatto, si è rassegnato e così sembra di stare in laguna, via Atenisio, la laguna di Taranto. Grazie